Radiofonista ferito! Possiamo comunicare solo ai veicoli più vicini! Abbiamo perso un cingolo! Siamo fermi! Hanno ferito il cannoniere! Sarà dura colpire qualcosa! Si è acceso come un falò! Abbiamo fatto il possibile per sistemare il motore! Cannone inceppato! Non possiamo sparare! Travolgiamoli! Cingolo riparato! In marcia! Veicolo nemico distrutto! Gli abbiamo dato fuoco! L'abbiamo acceso per bene! Il telemetro è stato colpito! Abbiamo colpito uno dei nostri veicoli! Basta! Finiamola qui! Cingolo colpito! Comandante colpito! Cosa sta succedendo là fuori? È rimbalzato! Capocarro ferito! Tutti fuori! Il carro è un rottame! Ottiche riparate! Adesso vediamo meglio! Cingolo sistemato! Andiamo! Motore distrutto! Ottiche distrutte! Non abbiamo più visuale! Ottica danneggiata! Diamoci da fare! Abbiamo distrutto un alleato! Ottica colpita! Stiva munizioni colpita! Per fortuna non è esplosa! Rimbalzo! Abbiamo soffocato le fiamme! Veicolo nemico distrutto! Cannoniere ferito! Stiamo cercando di sostituirlo! Bersaglio acquisito! Cambio obiettivo! Cambio obiettivo! Periscoppio danneggiato! Si vede a fatica! Preso! Abbiamo perso un cingolo! Siamo fermi! Rimbalzo! Abbiamo distrutto uno dei nostri veicoli! Veicolo nemico distrutto! Radio fuori uso! Siamo isolati da tutti! Ottica danneggiata! Pilota ferito! Cerchiamo un altro bersaglio! Radiofonista ferito! Portata del segnale ridotta! Ottica danneggiata! Abbiamo perso tutto l'equipaggio! Cambio obiettivo! Abbiamo fatto il solletico! Cerchiamo un altro bersaglio! Rimbalzo! Hanno colpito la radio! Portata ridotta! Periscopio danneggiato! Si vede a fatica! Cannone danneggiato! La precisione di tiro è ridotta! Attenzione! Andiamo a fuoco! Motore sistemato! Però andiamoci piano! Torretta danneggiata! Possiamo a malapena ruotarla! Si è acceso come un falò! È rimbalzato! L'esplosione ci ha danneggiati! Cerchiamo un altro bersaglio! Ci hanno quasi preso! Veicolo nemico distrutto! Uno dei serbatoi perde! Capocarro ferito! Ottiche distrutte! Non abbiamo più visuale! Facciamogli vedere chi comanda! Andiamo! Torretta bloccata! Questo è rimbalzato! Prendi l'estintore e spegnilo subito! Pronti al fuoco! Servattoio bucato! Fuoco! Spegniamolo subito! Servente colpito! Non possiamo caricare rapidamente! Diamoci da fare! Colpito! Servente ferito! Ricarichiamo lentamente! Ci hanno presi! Tutti fuori! Quello era vicino! Gli abbiamo fatto il solletico! Abbiamo riparato le ottiche! Tenete gli occhi aperti! Muoviamoci! Questo è rimbalzato! Il motore è stato colpito! Abbiamo un cingolo danneggiato! Li abbiamo incendiati! Servatoio bucato! Spegnete quelle fiamme! Comandante colpito! Cosa sta succedendo là fuori? Cingolo a posto! Periscopio riparato! Travolgiamoli! Periscopio distrutto! Periscopio distrutto! Colpito! Ottica colpita! È rimbalzato! Abbiamo riparato il motore, ma andremo a velocità ridotta! Il cannone funziona, ma non è calibrato! Gli abbiamo fatto il solletico! Quello era vicino! Abbiamo un cingolo danneggiato! Facciamogli vedere chi comanda! Stiva munizioni danneggiata! L'abbiamo preso! Attenzione! Andiamo a fuoco! Il motore sta fumando! Radio fuori uso! Siamo isolati da tutti! Periscopio distrutto! Il motore funziona, ma non possiamo andare al massimo! Ottica colpita! Li abbiamo incendiati! Cannone riparato! Pronti al fuoco! Beccato! Cingolo sistemato! Muoversi! Basta! Finiamola qui! Serbatoio nemico colpito! Travolgiamoli! Li abbiamo appena aggraffiati! Le ottiche sono state riparate, ma non sono come nuove! Ottica colpita! Prova a ruotare la torretta! Dovrebbe funzionare! Carro nemico a fuoco! Pilota ferito! Stiamo cercando di sostituirlo alla guida! Motore distrutto! Corazzato nemico danneggiato! Cannoniere ferito! Muoviamoci! Facciamogli vedere chi comanda! Carro nemico distrutto! Abbiamo riparato il cingolo! Siamo immobilizzati! Tutti fuori! Il carro è un rottame! Dove è andato? Radio danneggiata! Non possiamo comunicare! Capocarro ferito! Hanno ferito il servente! Dategli una mano! Cannone danneggiato! Abbiamo perso precisione! Il fuoco si è spento! Pilota ferito! Abbiamo sistemato il cannone, ma non è molto preciso! Abbiamo colpito uno dei nostri! Prisma distrutto! Non vediamo nulla! Ottiche riparate! L'abbiamo accesa per bene! Le ottiche funzionano nuovamente! Raggio visivo aumentato! Ottiche colpite! Raggio visivo ridotto! Il cannone è danneggiato! Funziona, ma non tanto bene! Hanno colpito le ottiche! Possiamo sparare solo a bersagli vicini! La torretta si è inceppata! Non possiamo ruotarla! Muoviamoci! Visibilità ripristinata! Muoversi! Muoversi! Il nostro motore è fuori uso! Il cannoniere è ferito! Non possiamo sparare con precisione! Corazzato nemico distrutto! Ottiche riparate! Uno di meno! Cingolo colpito! Preso! Radio danneggiata! Non possiamo comunicare! Abbiamo colpito uno dei nostri! Le ottiche sono quasi inservibili! Gli abbiamo fatto il solletico! Quello era vicino! Cannone danneggiato! Abbiamo perso precisione! Le ottiche funzionano nuovamente! Raggio visivo aumentato! Hanno ferito il pilota! Ora siamo lenti! Gli abbiamo fatto il solletico! Rimbalzo! Possiamo andare! Uno di meno! Diamoci da fare! L'equipaggio è fuori combattimento! Siamo immobilizzati! Cambio obiettivo! Colpito! Cerchiamo un altro bersaglio! Questo è rimbalzato! Torretta danneggiata! Possiamo a malapena ruotarla! Torretta immobilizzata! Beccato! Nemico distrutto! È finita! Tutti fuori! Stiva munizioni danneggiata! Il fuoco si è spento! Incendio! Spegniamolo in fretta! Centrato! Bersaglio perso! Pronti al fuoco! Gli abbiamo dato fuoco! Visibilità ripristinata! Andiamo! Bersaglio perso! Questo è rimbalzato! Quello era vicino! Abbiamo riparato il cingolo! Possiamo andare! Gli abbiamo danneggiati! Veicolo nemico eliminato! Bersaglio acquisito! Ci hanno colpito le ottiche! Non vediamo nulla! Le ottiche sono danneggiate! Visibilità ridotta! L'idraulica è andata! Dobbiamo muovere la torre a mano! Cambio obiettivo! Il periscopio è danneggiato! Travolgiamoli! Rimbalzo! Cambio obiettivo! Andiamo! Andiamo! Abbiamo riparato il cingolo! Andiamo! Agganciato! Quello era vicino! Muoviamoci! Tutto l'equipaggio è andato! Non lo vedo più! Corazzato nemico distrutto! Ora le ottiche funzionano, ma non come prima! Ripartiamo! Radiofonista ferito! Portata del segnale ridotta! Andiamo a fuoco! Spegniamolo! Ottiche riparate! Carro nemico a fuoco! Capocarro ferito! Cerchiamo un altro bersaglio! Visibilità ripristinata! Danno critico al motore! Siamo bloccati! Torretta bloccata! Non possiamo muoverla! Hanno danneggiato il motore! Dobbiamo rallentare! Bel colpo! Cerchiamo un altro bersaglio! Torretta riparata! Ma ruoterà lentamente! Il serbatoio è stato colpito! Cingolo a posto! Hanno colpito la radio! Portata ridotta! Il motore è stato colpito! Abbiamo domato l'incendio! Abbiamo riparato il cannone! Ma abbiamo perso precisione! Fuoco! Spegniamolo subito! Non lo abbiamo bucato! Ottica colpita! Abbiamo domato l'incendio! Motore danneggiato! Non possiamo andare al massimo! Stiva munizioni colpita! Cannone inchiodato! Il periscopio è danneggiato! L'esplosione ci ha danneggiati! Il serbatoio è stato colpito! Capocarro ferito! Agganciato! Le ottiche sono state distrutte! La visuale è ridotta! Preso! Hanno ferito il radiofonista! Non possiamo contare su di lui! Diamoci da fare! Il telemetro è stato colpito! Il motore è stato colpito! Cannone fuori uso! Il motore sta fumando! Abbiamo riparato le ottiche! Tenete gli occhi aperti! Questo è rimbalzato! Cambio obiettivo! Muoviamoci! Bersaglio acquisito! Servente colpito! Serbatoio nemico colpito! Ci hanno presi! Tutti fuori! Hai lasciato il plotone! Corazzato nemico danneggiato! Questo è rimbalzato! Il cannoniere è ferito! Non possiamo sparare con precisione! Non lo vedo più! Gli abbiamo dato fuoco! Abbiamo perso un cingolo! Siamo fermi! Abbiamo riparato le ottiche! Tenete gli occhi aperti! Preso! Gli abbiamo fatto il solletico! Veicolo nemico distrutto! Ti sei unito al plotone! Motore sistemato però andiamoci piano! Cingolo a posto! Cannone riparato! Pronti al fuoco! Nemico distrutto! Andiamo! Fuoco spegniamolo subito! Un giocatore si è unito al plotone! Il plotone è stato creato! Serbatoio bucato! Andiamo a fuoco spegniamolo! Li abbiamo appena aggraffiati! Ottiche colpite! Raggio visivo ridotto! Comandante colpito! Cosa sta succedendo là fuori? Hanno ferito il pilota! Ora siamo lenti! Siamo immobilizzati! Gli abbiamo fatto il solletico! Questo è rimbalzato! Attenzione! Andiamo a fuoco! Carro nemico distrutto! Abbiamo riparato il motore ma andremo a velocità ridotta! Cannone danneggiato! Abbiamo perso precisione! Plotone creato! Abbiamo un cingolo danneggiato! Veicolo nemico distrutto! L'idraulica è andata! Dobbiamo muovere la torre a mano! Un giocatore si è unito al plotone! Rimbalzo! Rimbalzo! Cambio obiettivo! È finita! Tutti fuori! Sei entrato nel plotone! Carro nemico a fuoco! Corazzato nemico distrutto! Uno di meno! Quello era vicino! Cambio obiettivo! Preso! Ripartiamo! Periscopio riparato! Quello era vicino! Abbiamo riparato il cingolo! Possiamo andare! Dov'è andato? Servente colpito! Cingolo a posto! Abbiamo un cingolo danneggiato! Non fai più parte del plotone! Abbiamo colpito uno dei nostri! Ottiche distrutte! Non abbiamo più visuale! Le ottiche funzionano nuovamente! Raggio visivo aumentato! Motore danneggiato! Non possiamo andare al massimo! Radio danneggiata! Non possiamo comunicare! Il motore sta fumando! Facciamogli vedere chi comanda! Bel colpo! Plotone destituito! Abbiamo riparato il cingolo! Visibilità ripristinata! Cambio obiettivo! Cambio obiettivo! Ottica danneggiata! Muoversi! Muoversi! Hanno colpito la radio! Portata ridotta! Attenzione! Andiamo a fuoco! Meicolo nemico distrutto! Periscopio distrutto! Corazzato nemico distrutto! Preso! Capocarro ferito! Servente colpito! Non possiamo caricare rapidamente! Muoviamoci! Li abbiamo incegnati! Motore distrutto! Hanno ferito il cannoniere! Sarà duro a colpire qualcosa! Cerchiamo un altro bersaglio! Uno dei serbatoi perde! Travolgiamoli! Ottiche riparate! Sei stato escluso dal Plotone! Bersaglio acquisito! Pilota ferito! Colpito! Carro nemico a fuoco! Fuoco! Spegniamolo subito! Ci hanno quasi preso! Abbiamo soffocato le fiamme! Abbiamo perso un cingolo! Siamo fermi! Cingolo sistemato! Andiamo! Il motore sta fumando! Le ottiche funzionano nuovamente! Raggio visivo aumentato! Travolgiamoli! Capocarro ferito! Rimbalzo! Veicolo nemico distrutto! Il fuoco si è spento! Basta! Finiamolo qui! Andiamo! Il nostro motore è fuori uso! L'esplosione ci ha danneggiati! Cannone fuori uso! Versaglio perso! Il periscopio è danneggiato! Centrato! L'abbiamo preso! Serbatoio bucato! Torretta bloccata! Ottiche riparate! Adesso vediamo meglio! Ottica danneggiata! Visibilità ripristinata! Cerchiamo un altro bersaglio! Veicolo nemico eliminato! Quello era vicino! Cambio obiettivo! Tutti fuori! Carro è un rottame! Fai parte del plotone! Hanno ferito il servente! Dategli una mano! Le ottiche sono state distrutte! La visuale è ridotta! Il telemetro è stato colpito! Viene richiesto il tuo aiuto! Capocarro ferito! Capocarro ferito! È rimbalzato! Cingolo sistemato! Muoversi! Prisma distrutto! Non vediamo nulla! Abbiamo riparato le ottiche! Tenete gli occhi aperti! Torretta bloccata! Non possiamo muoverla! Questo è rimbalzato! Muoviamoci! Radio fuori uso! Siamo isolati da tutti! Abbiamo perso tutto l'equipaggio! Ci hanno presi! Tutti fuori! Travolgiamoli! È stata richiesta la tua assistenza! Ora le ottiche funzionano! Ma non come prima! Periscopio distrutto! Spegnete quelle fiamme! Un giocatore si è unito al plotone! Danno critico al motore! Siamo bloccati! Versaglio acquisito! Ci hanno presi tutti fuori! Il motore funziona ma non possiamo andare al massimo! Periscopio distrutto! Ottiche riparate! Cerchiamo un altro versaglio! Cannone danneggiato! Abbiamo perso precisione! Gli abbiamo dato fuoco! Questo è rimbalzato! Periscopio danneggiato! Si vede a fatica! Li abbiamo danneggiati! Agganciato! Il periscopio è danneggiato! E abbiamo fatto il solletico! Pilota ferito! Stiamo cercando di sostituirlo alla guida! Periscopio danneggiato! Si vede a fatica! Muoviamoci! Torretta riparata ma ruoterà lentamente! Versaglio perso! Prova a ruotare la torretta! Dovrebbe funzionare! Abbiamo domato l'incendio! Radiofonista ferito! Portata del segnale ridotta! L'equipaggio è fuori combattimento! Hanno colpito la radio! Portata ridotta! Abbiamo colpito uno dei nostri veicoli! Muoviamoci! Abbiamo fatto il possibile per sistemare il motore! Ottica colpita! Basta! Finiamola qui! Il motore è stato colpito! Cambio obiettivo! Ottica colpita! Versaglio acquisito! Beccato! Le ottiche sono state riparate ma non sono come nuove! Torretta danneggiata! Possiamo a malapena ruotarla! Stiva munizioni danneggiata! Cannoniere ferito! Tutto l'equipaggio è andato! Cerchiamo un altro bersaglio! Stiva munizioni danneggiata! Diamoci da fare! Colpito! Pilota ferito! Rimbalzo! È rimbalzato! L'otone è creato! Andiamo! Cannoniere ferito! Stiamo cercando di sostituirlo! Beccato! Comandante colpito! Cosa sta succedendo là fuori? Abbiamo distrutto uno dei nostri veicoli! La torretta si è inceppata! Non possiamo ruotarla! Abbiamo riparato il cingolo! Cingolo riparato! In marcia! Ottica colpita! Facciamogli vedere chi comanda! Capocarro ferito! Gli abbiamo fatto il solletico! Il serbatoio è stato colpito! Incendio! Spegniamolo in fretta! Plotone sciolto! Agganciato! Sei stato cacciato dal Plotone! Il motore è stato colpito! Torretta danneggiata! Possiamo a malapena ruotarla! Il telemetro è stato colpito! Possiamo andare! Cingolo colpito! Quello era vicino! Cannone inceppato! Non possiamo sparare! Il cannone è danneggiato! Funziona ma non tanto bene! Gli abbiamo fatto il solletico! Ottiche riparate! Hanno colpito le ottiche! Possiamo sparare solo a bersagli vicini! Le ottiche sono danneggiate! Visibilità ridotta! Diamoci da fare! Cannone inchiodato! Cannone danneggiato! La precisione di tiro è ridotta! Hanno ferito il radiofonista! Non possiamo contare su di lui! Quello era vicino! Cerchiamo un altro bersaglio! Sei stato rimosso dal Plotone! Si è acceso come un falò! Serbatoio nemico colpito! Le ottiche sono quasi inservibili! Cingolo colpito! Abbiamo riparato il cannone ma abbiamo perso precisione! Il serbatoio è stato colpito! Cerchiamo un altro bersaglio! Pronti al fuoco! L'abbiamo acceso per bene! Stiva munizioni colpita! Abbiamo distrutto un alleato! Hai abbandonato il Plotone! L'esplosione ci ha danneggiati! Tutti fuori! Il carro è un rottame! Motore distrutto! Li abbiamo incendiati! Servente ferito! Lo ricarichiamo lentamente! Rimbalzato! Visibilità ripristinata! Radiofonista ferito! Portata del segnale ridotta! Andiamo! Si è acceso come un falò! Facciamogli vedere chi comanda! È richiesta la tua assistenza! Colpito! Rimbalzo! Ottica danneggiata! Hanno danneggiato il motore! Dobbiamo rallentare! Ci hanno colpito le ottiche! Non vediamo nulla! Torretta immobilizzata! Ottica colpita! Diamoci da fare! L'abbiamo acceso per bene! Ottiche distrutte! Non abbiamo più visuale! Muoviamoci! Ottica colpita! Siamo immobilizzati! Radio fuori uso! Siamo isolati da tutti! Travolgiamoli! Uno di meno! Il fuoco si è spento! Serbatoio nemico colpito! Radiofonista ferito! Possiamo comunicare solo ai veicoli più vicini! Abbiamo colpito uno dei nostri! Non lo abbiamo bucato! Abbiamo sistemato il cannone ma non è molto preciso! Abbiamo domato l'incendio! Il motore è stato colpito! Prendi l'estintore e spegnilo subito! Andiamo! Pronti al fuoco! Stiva munizioni colpita! Per fortuna non è esplosa! Questo è rimbalzato! Lottone è cancellato! Radio danneggiata! Non possiamo comunicare! Cambio obiettivo! Il cannone funziona ma non è calibrato! Diamoci da fare!